ciao e benvenuto in un nuovo video oggi parliamo di celle 18 350 sempre per quanto riguarda la categoria di video sull'accumulo di energia customizzazione di pacchi batterie ti volevo far vedere alcune delle mie celle 18 650 ricondizionate come funziona una cella 18 650 come è composta ragazzi la cella che commercial 18 650 è così eccola qui tubolare da 18 come diametro 65 come lunghezza tutto attorno diciamo una pellicola plastica per isolare il corpo della cella perché in metallo ci sono pellicole monocolore come questa verde rossa o più colori come questa verde e nera ci sono anche blu ci sono anche viola di comunque di qualsiasi colore il colore della cella indica il brand perché i brand hanno dei colori ben specifici il la cella senza la pellicola è fatta così come vedi tutto a metallo un altro componente della cella 18 650 è questo che il cartoncino tondo col foro questo va nel polo positivo qui a copertura dei laterali per evitare eventuali cortocircuiti mi raccomando se trovi nelle celle ricondizionate può succedere celle che hanno la pellicola rotta rinnova la cambia la sostituiscila con questi ora ti faccio vedere questa è una pellicola di ricambio colore giallo che si va inserire così perfetto con il fono normalissimo fono vai a riscaldare la pellicola e va a diventare così è obbligatorio che le celle siano tutte rappate cioè ri isolate e che abbiano quello dentro nei fascicoli tecnici che trovi sotto il link sono su amazon hai una lista di celle 18 650 commerciali dove ti viene spiegato il modello il brand perché ragazzi dal colore del wrap e dal colore del cartoncino capirai se quella celle falsa o è originale al 100 per cento poi inoltre ti ricordo che se sei interessato alla tecnologia 18 650 customizzazione pacchi batterie ho fatto un corso o inattivo corso circa cinque ore come corso video più tantissimi allegati tantissime pagine da leggere tanta roba dedicata appunto alla customizzazione di pacchi batterie il corso si chiama battery maker e in questo momento è ad un prezzo speciale lo manterrò per qualche altro mese perché perché sto avendo buone soddisfazioni buoni feedback oggi la tecnologia litio è il futuro tu queste celle le trovi sia nelle batterie delle bici che degli scooter e dei monopattini elettrici degli elettro utensili qualsiasi aspirapolveri power bank questa è il presente e il futuro se tu oggi sai manovrare queste celle sai gestirle sai ricaricarle sai assemblarle sai riparare i pacchi batterie hai un lavoro d'oro in mano perché tutti questi monopattini tutte queste bici elettriche ti parlo solo di loro grazie anche ai vari decreti che ha fatto lo stato italiano se ne stanno vendendo tantissimi ma voi non potete capire quanti clienti mi contattano perché vogliono pacchi batterie fatti su misura pacchi batterie e rotti e da sostituire cioè stiamo parlando di un mercato ragazzi oro un mercato che oggi vale milioni di euro in tutto il mondo non solo in italia e niente ragazzi per questo video è tutto se ti interessano informazioni su di me sotto trovi tutti i link al sito al corso ai fascicoli tecnici e poi ai vari social instagram facebook iscriviti al canale troverai tantissimi video già online e già caricati in più tantissimi nuovi video nel corso dei prossimi mesi anni a venire niente ragazzi grazie per la visione scrivimi sotto un commento dimmi cosa te ne pare della tecnologia lidio se hai esperienze e se hai domande scrivile ti risponderò o sotto o in un prossimo video sia una domanda molto importante consistente e niente ciao il prossimo video